Il muca doveva essere inaugurato nel giugno del 1987 e Keith Haring fece questo murales nella caffetteria la sera della presentazione alla stampa. Quando arrivò era piuttosto stanco ed aveva fame. Così mandammo la donna delle pulizie al mercato del pesce che si trova proprio dietro l'angolo e lei ci portò delle ringhe, ringhe fresche. Era buffo per via del nome. Keith Haring che mangiava ringhe ad Anversa. La cosa gli piacque molto. Dopodiché lavorò per tutta la notte. La donna delle pulizie gli diede panini e caffè e così lui fece per lei un quadretto di un uomo che mangiava ringhe. Conosco questo murale fin da bambina perché vengo qui da quando avevo dieci anni ed è sempre stato una delle cose che preferivo in questo museo perché è colorato e dinamico. Ecco perché mi piace tanto. Grazie. Grazie. Grazie.